Con le nevicate in quota di questi giorni, altre sono attese a breve, parte a pieno regime nel fine settimana la stagione dello sci in Valtellina e Valchiavenna. Nelle scorse settimane alcune stazioni hanno già aperto parte degli impianti nei weekend ed ora in avanti si potrà sciare tutti i giorni. A Livigno, terza in Europa e prima in Italia tra gli ski resort secondo il giudizio dei turisti, dopo l'antipasto degli scorsi weekend è scattata l'apertura ufficiale dei 30 impianti di risalita per 115 chilometri di piste. Fino al 22 dicembre ski pass gratis per chi soggiorna 4 notti in hotel o 7 in appartamento e domani appuntamento con la Sgambeda, 28esima edizione. A Bormio, che già fa il conto alla rovescia in vista della discesa libera di Coppa del Mondo a fine mese sulla mitica Stelvio, da domani 50 i chilometri di tracciati e 15 gli impianti attivi. Si potrà sciare tra Bormio 2000 e 3000 metri. A Santa Caterina Valfurva aperti 9 impianti per 35 chilometri di piste. Sempre in Altavalle, a Cimapiazzi San Colombano, impianti di risalita con 12 piste di sci alpino aperte e 25 chilometri, ma l'Altavalle gioca anche la carta dello sci di fondo. Aprica apre per il weekend con uno ski pass giornaliero promozionale a 25 euro e dal 7 dicembre Sant'Ambrogio tutti i giorni per un'offerta di 50 chilometri di tracciati. La Val Malenco si propone con il proprio repertorio di 60 piste e l'opportunità del treno della neve, frutto dell'intesa fra Trenord e consorzio turistico Sondrio e Val Malenco, con 48 euro, biglietto del treno andata e ritorno Milano-Sondrio, transfer per la partenza degli impianti di risalita e ski pass giornaliero. Tutto pronto anche in Val Chiavenna con la schiarea di Madesimo e Campodolcino già bene innevata. Aperte anche le stazioni minori di Teglio Prato Valentino e Valgerola-Pescegallo.